I primi tre weekend di ottobre Ragusa ospiterà questa rassegna veramente importante, le vie dei tesori. Quest'anno il tema sarà la verticalità, apriranno tanti campanili delle nostre splendide chiese in centro storico, l'invito quindi a venire a Ragusa, poter visitare luoghi della città e poco conosciuti, vivere un'esperienza sensoriale davvero straordinaria. I primi tre fine settimane d'ottobre saranno caratterizzati dai tre weekend delle vie dei tesori, vedremo Ragusa dall'alto, lo faremo a piedi, lo faremo entrando all'interno del patrimonio per scoprirlo, saliremo i campanili, ma soprattutto lo faremo attraverso la mobilità sostenibile perché avremo modo di raggiungere tutti i punti della città attraverso un ticket unico di tre euro che presentando il ticket d'acquisto dei tesori vi permetterà di conoscere e raggiungere ogni angolo dell'evento, dai campanili e gli affreschi alle controfacciate al museo archeologico. Il centro storico si svela ed è pronto a raccontare il meglio di sé. Grazie a tutti. Grazie a tutti.